22 km a Leviotte, si attacca al Bondone dal versante di Aldeno. 22-8, Gallerie, finisce il primo tratto duro della salita. La strada spiana e ci sono anche dei bei posticini dove mangiare, credo che in questo momento agli atleti interessi. Chilometro 15, qui ne prendete ci fanno sentire ma mancano due o tre chilometri e vedremo il cartello a Leviotte. Chilometro 15, qui ne prendete ci fanno sentire ma mancano. Siamo arrivati alla conclusione del nostro racconto, i ciclisti non passeranno da qui ma prenderanno la discesa per la Valle dei Laghi, discesa velocissima. Vi salutiamo e naturalmente buona tappa.